Il cancro, un'insidia diffusa e temuta, avvertita, come abbiamo ascoltato anche poc'anzi, sino non molti anni fa come condanna inesorabile, talmente temuta di non essere evocata per tanto tempo nel linguaggio corrente con il suo nome, ma piuttosto citata come male incurabile, un male anonimo, ma definitivo. È stato un importante risultato avergli restituito la sua dimensione di malattia, che può essere combattuta grazie alla medicina e dunque grazie alla ricerca che la sospinge. Oggi un gran numero di persone, oltre tre milioni e mezzo, vive dopo una diagnosi di tumore. Molte di loro possono considerarsi guarite. Tante combattono contro la malattia con buone prospettive di successo. Le condizioni di numerosi malati sono migliorate, consentendo relazioni positive e partecipazione alla vita familiare e della società. Un grande beneficio per tutti, anche per coloro che presumono di essere indifferenti. La ricerca ha permesso di compiere passi in avanti straordinari. Grazie alla ricerca, grazie all'emuno-oncologia e alle terapie mirate. È cambiata la storia della lotta a molti tumori.